Buongiorno a tutti, buon mercoledì 6 settembre, meno 10 al derby, sembra un'eternità ma tra poco si scende in campo per quello che sarà veramente uno scontro per il primo posto per dimostrare chi è la squadra più forte tra le due milanesi, tra le due squadre che hanno operato di più e meglio sull'ultimo calciomercato che si è chiuso senza grandissimi colpi però ricordiamo sempre che quello più oneroso, quello più importante è stato un certo Benjamin Pavard acquistato per 30 milioni più 2 di bonus dall'Inter al Bayern di Monaco che è ancora alla ricerca di un suo sostituto che poi non è riuscito ad acquistare Rinnovo di Inzaghi l'abbiamo annunciato ieri mattina e poi è arrivata l'ufficializzazione di una scelta che avevamo già approvato e anticipato come sottolinea il teccaldo più famoso di Youtube in arrivo una scelta importante che conferma tutto il lavoro svolto in ogni direzione ad ogni piano di via della liberazione quando si è scelto Simone dopo Conte per provare a tenere alta altissima l'asticella ci si è riusciti all'inizio molto bene, poi c'è stato un calo dopo la conquista della prima Supercoppa che a molti aveva fatto pensare, penso soprattutto in campo di aver aperto un ciclo, una certa supponenza, presunzione che è costata lo scudetto con quella serie maledetta di 7 punti in 7 partite a cavallo anche con la sfida di Champions con Liverpool che portò via tante energie e probabilmente anche lo scudetto della stella un peccato direi che fino a poco tempo fa non era mai stato perdonato soprattutto a Simone Inzaghi che però in silenzio senza mai una virgola fuori posto senza mai chiedere chissà che cosa, senza mai fare delle sparate contro la società o la dirigenza se non sottolineare qualche puntino sulle I che a un certo punto diciamo era mancato ma che poi ha portato a una continuità di progetto che fino al momento è valsa quattro trofei, due Supercoppe e due Coppe Italia una finale di Champions raggiunta sorprendendo tutti e sfiorando anche l'impresa mettendo in grossa difficoltà addirittura Pepe Guardiola e il suo Manchester City, chiaro che però poi alla fine conta il risultato finale ma è un qualcosa che ha visto l'Inter protagonista al di là di qualsiasi pronostico e come dicevamo nei giorni scorsi pensate proprio perché si è incontrata la Fiorentina a come fosse stato messo in discussione da tanti che ne chiedevano la testa soltanto nel mese di aprile quindi neanche molto tempo fa quando l'Inter rischiava di andare fuori dalla Champions e nessuno poi pensava che andasse a vincere la Coppa Italia ribaltando comunque la sfida con la Juve e andando poi fino a Istanbul eliminando Benfica Milan e giocandosela alla pari con il Manchester City quindi è arrivata la giusta gratificazione che avevamo raccontato prima si era deciso diciamo di posticipare ogni discussione all'inizio del campionato proprio per dare uno sprint in più per una buona partenza che abbiamo visto tre vittorie su tre, otto gol segnati nessuno subito, primo posto in coabitazione con il Milan un gioco che convince, che piace, qualcuno dice non ho mai visto l'Inter giocare così bene in realtà la prima Inter di Inzaghi dopo l'assestamento iniziale giocava veramente bene non per niente avevo cognato il soprannome di Simone Ilbello per il bel gioco che faceva vedere dopo Conte che vinceva ma diciamo che lo spettacolo era un'altra cosa a San Siro se vi ricordate le sfide con lo Spezia, Cagliari comunque gare anche in cui l'Inter spesso lasciava il pallino del gioco agli avversari e poi ripartiva con Hakimi, con i suoi velocisti Lukaku a cercare di vincere le partite esempio massimo per ricordarvi un po' Roma-Inter 0-3 con quel gol di Dzeko manifesto della bellezza che poi l'Inter ha perso tra le solite flessioni che Inzaghi ha spesso avuto anche alla Lazio, lì complice poi alla pandemia gli costò forse uno scudetto che poteva magari senza stop, senza lockdown giocarsela in modo migliore però poi sono tutti i sliding doors del calcio e adesso vedremo dove porterà questo rinnovo, questo progetto che continua l'abbiamo detto prima di lui solo Mancini aveva tagliato il traguardo delle tre panchine consecutive in nerazzurro e proprio alla terza occasione il Mancio a parte poi lo scudetto del 2006 che venne riassegnato ma alla terza panchina consecutiva Mancini poi riuscì a centrare l'obiettivo scudetto speriamo che la storia si possa ripetere sicuramente Inzaghi maestro di coppe delle sfide da dentro fuori ora deve dimostrare di essere cresciuto anche nella gestione del campionato nella corsa a tappe, corsa lunga in cui spesso ha fatto degli errori che poi si sono rivelati decisivi e fatali la partenza è sicuramente ottima meglio non si poteva partire senza subire neanche un gol giocando bene e con quella mentalità che abbiamo sottolineato essere cresciuta quella voglia di vincere quella voglia di recuperare il pallone di imporre il proprio gioco agli avversari che fa la differenza e poi fa risultato fa crescita fa entusiasmo fa convinzione nei propri mezzi però come diciamo sempre piedi per terra testa bassa lavorare non sarà facile adesso perché riapre la pinettina sono solo sette i giocatori a disposizione di Simone tra cui i due portieri Audero e Di Gennaro quindi giocatori di movimento 5 poi i due sono diciamo in recupero come Sensi e a Cerbi non so bisogna aspettare che inizino a ritornare perché anche fare qualsiasi tipo di lavoro risulta molto molto complicato alla fine vediamo se ricordo togliendo i 17 che sono partiti abbiamo detto i portieri i due che sono in recupero rimangono Mkhitaryan Bissek e poi vediamo un attimo Mkhitaryan Bissek e classe mi mancava l'ultimo acquisto l'olandese da cui anche lì mi aspetto qualcosa di più qualche qualcuno ha anche criticato la sua scelta di trasferirsi all'Inter in Olanda vedremo se anche questo cambio lo farà tornare quel numero 10 dell'Ajax che era tra i giocatori più qualitativi della formazione che stupiva tutti qualche anno fa e che adesso ha una chance diversa per cercare una nuova avventura sicuramente a lui servirà questa pausa per inserirsi capire il gioco di Inzaghi anche se abbiamo detto con così pochi elementi a disposizione gli allenamenti saranno infarciti di primavera e di giovani e il vero lavoro pre-derby comincerà quando inizieranno a tornare i vari i vari giocatori ad Appiano Gentile i vari nazionali sperando che non succeda nulla di sconveniente ci fermiamo qui anche perché preoccupa soprattutto la sfida in Bolivia di Lautaro Martinez che poi arriverà ridosso del derby con solo due allenamenti a disposizione comincerei questo video con un bel editoriale proprio dedicato a Simone Inzaghi che vi fa capire anche come nel calcio non ci sia giustizia come tutto cambi spesso anche senza rispetto ricordate le critiche soprattutto di certi fenomeni da baraccone un po' soprattutto su questa piattaforma dal precipizio al rinnovo che ribaltone quattro mesi fa era da mandare via furor di popolo adesso si prende la grande rivincita non è cambiato di una virgola e questa è la sua forza articolo di Cristiano Gatti la voce cavernicola che ti dà subito un'idea per il regalo di Natale una bella cisterna di colluttorio gola risuonerà per altri due anni a San Siro salvo imprevisti salvo cambi di luna salvo cambi di gusti salvo cambi di opinione queste le postille non scritte in tutti i contratti degli allenatori che ci vuoi fare ma per Simone Inzaghi non è proprio questo il momento di immalinconirsi con la relatività della vita e la caducità della gloria terrena firmare per l'Inter fino al 2025 una vittoria trionfale senza se e senza ma passerà alla storia come ribaltone di Inzaghi non facciamo finta di sorvolare popoli della curva che adesso mandate in tilti social con il giubilo della fumata bianca questo Inzaghi è lo stesso Inzaghi che soltanto quattro mesi fa non quattro ere geologiche era un millimetro anche meno dalla pedata nel di dietro una pedata collettiva furor di popolo via l'allenatore indeciso confuso senza personalità via l'allenatore che sbaglia i cambi via l'allenatore che in fondo finora ha allenato la Lazio avesse detto qui siamo all'Inter e lui è troppo piccolo per una faccenda così grande non bisogna essere malevoli per ricordare basta fare qualche ricerchina su Google cardiopatici e seminaristi evitare social per ritrovare i titoli di questa primavera una primavera torrida sotto i glutei di Inzaghi altro che sul riscaldamento climatico lui rosolava sulla graticola e avvertiva un inequivocabile aroma di grigliata se stesso ormai ben cotto e pronto per essere impiattato tutto annullato in fondo si scherzava ai primi di settembre già il migliore degli allenatori possibili ripensandoci bene quello che ha portato l'Inter all'ultima curva della Champions mettendo una feroce strizza al popolare Pep ma poi c'è il resto le due supercoppe le due coppe Italia e poi la solidità di squadra e poi il gioco e poi l'aggressività guarda com'è già ripartito tre vittorie in tre partite unica squadra a non prendere gol inerzia portentosa per arrivare al derby sfondando tutto quanto ma sì si erano dette diverse cose accompagnandolo alla porta come un mezzo impedito effettivamente sembra cambiato il mondo o magari è cambiato lui sta a vedere che è proprio cambiato lui invece non è andata così invece Inzaghi non è cambiato di una virgola rispetto a quelli Inzaghi la sua forza il suo trionfo la sua rivincita sta proprio in questo perdendo la voce ogni partita come ingoiassa ogni volta una cassa acustica Inzaghi è rimasto tale quale anche sull'orlo del precipizio ha creduto fino in fondo nel suo lavoro e prima ancora in se stesso pronto a essere silurato eppure giocandosi imperturbabile le proprie carte fino all'ultimissima possibilità che restava un sacco di allenatori allungano i contratti ma se c'è un tratto distintivo di questo allungamento interista sicuramente va individuato nel merito particolare del tecnico capace da solo di capovolgere completamente la sorte segnata trasformandola in un'affermazione plebiscitaria poi è persino superfluo mettere le mani avanti lascia lasciagli disgraziatamente perdere il derby lasciagli fare un paio di 0 a 0 e i fuochisti ricominceranno subito a preparare la braccia come gli alpini alla festa della calda arrosta sta scritto nel destino di ogni allenatore sta scritto nel pittoresco costume del tifo sportivo non sarà Inzaghi a ribellarsi e a sorprendersi della solita tiritera ma in ogni caso stavolta qualcosa resterà sempre comunque nella buona e nella cattiva sorte se 4 mesi fa Inzaghi non era da Inter d'ora in poi toccherà l'Inter essere da Inzaghi qui un po' esagerato il finale però vi fa capire come vi dico sempre anche che bisogna mantenere i piedi per terra perché adesso sì tutto sta andando bene c'è convinzione risultati mentalità voglia di vincere però basta anche solo che non vada come come si deve il derby e tutto inizia a cambiare metteci poi magari un pareggio alla prima di Champions e ritornerebbero fuori a moltiplicarsi inzaghi out canali da incubo e chi più ne ha più ne metta quindi testa bassa pedalare lavorare con convinzione con fiducia con equilibrio sempre che è quello che è un po' il nostro mantra oltre al calcio mercato fluido non è l'Inter adesso da mille e una notte non era nei momenti difficili una squadra da buttare via non era quest'estate la peggiore delle squadre costruite equilibrio che adesso bisogna continuare ad avere senza farsi illudere adesso da tutti i titoli prime pagine scudetto prenotato l'Inter è la squadra più forte quella con più alternative perché poi è tutto un boomerang che ritorna indietro come sarà un bel banco di prova come abbiamo detto gestire un gruppo così importante con tutte queste alternative in cui i nuovi acquisti classe nel Pavard non entrano neanche un secondo in cui mancavano nell'ultima partita tre potenziali titolari come Acerbi come Sanchez e come Stefano Sensi quindi a ogni partita adesso in tanti inizieranno a non entrare neanche tutti che penso giocherebbero titolari in una squadra di medio alta classifica la bravura di Inzaghi la crescita ulteriore sarà adesso fare veramente del turnover ragionato cambiando gli addendi senza modificare il risultato finale una proprietà inzaghiana che sarà decisiva quella di gestire gli uomini non creando malumori di utilizzo di scarso utilizzo di spogliatoio andando però a fare ogni partita dei piccoli ritocchi cercando di far giocare tutti tra campionato e Champions adesso si è privilegiata la continuità per dare anche non far sentire la differenza con quella che è stata la squadra che ha chiuso alla grande la stagione vincendo la Coppa Italia conquistando il terzo posto e andando fino a Istanbul tre formazioni identiche all'inizio nelle prime tre giornate adesso con il derby bisogna anche preparare si possono preparare anche delle mosse a sorpresa per sorprendere i rivali dicevamo bisogna inserire adesso Pavard nuovo acquisto il più costoso che ha scelto così tanto l'Inter che l'ha voluta fortemente ma che si trova davanti un computer come Darmian che non sbaglia una mossa che è sempre tra i migliori che legge le partite come nessun altro che da sempre nonostante il passare degli anni un contributo eccezionale magari riportarlo anche a destra dove spesso ha fatto bene e abbiamo fatto l'esempio del derby di Riad in cui la fascia destra era scrignarbraccetto Darmian esterno e poi la mezzala barella puoi tradurlo nella versione corrente con Pavard braccetto Darmian esterno a bloccare Teo e Leao e barella ad aiutare gli altri poi c'è frattesi altro acquisto importantissimo non andate dietro a chi dice che è stato preso perché l'intra ha già deciso di vendere barella tra un anno solite fake news per fare visual per fare un po' di hype ma come avete visto anche su Onana che è stata una cessione dolorosa ma quanto è durata la trattativa e a un certo punto sembrava che potesse saltare quindi di che cosa stiamo parlando di un calciomercato che è fluido che poi non si può neanche sapere capire cosa succederà come continueranno le mosse arabe per dare del filo da torcere poi c'è anche ancora in ballo la questione Superlega che alla fine non è ancora stata discussa dalla Corte di Giustizia europea con quel parere del primo avvocato attenzione leggiamo su Tutto Sport un punto molto interessante perché non è in calendario nessun tipo di discussione in questo mese di settembre la sentenza UEFA secondo Tutto Sport slitta ancora intorno al parere della Corte di Giustizia europea ruota buona parte del futuro del calcio almeno di quello del vecchio continente sarà per questo che il verdetto tanto tanto atteso ancora ritarda atteso prima per l'estate poi a settembre il giudizio in merito alla diatriba tra Superlega e UEFA non si paleserà nemmeno in questo mese in corso nessuna udienza è stata calendarizzata la materia si annuncia piuttosto scivolosa dal momento che alla vigilia dell'esito sono arrivati due autorevoli pareri del tutto discordanti tra loro quello dell'avvocato Rantos l'avevamo detto che stizzava l'occhio a Cepherin e si è assecondato aprirebbe a uno scenario in cui la Superlega potrebbe nascere unicamente in chiaro contrasto con la UEFA e con problematiche che ne renderebbero molto fragile l'eventuale esistenza il parere però dell'avvocato Spunar al contrario tende la mano ai promotori della competizione ancora in fase di messa a punto e a sua volta assecondato disegnerebbe un quadro in cui alla UEFA verrebbe contestato un regime di monopolio in violazione delle norme 101 e 102 del trattato dell'Unione Europea in questo caso la Superlega non solo potrebbe vedere la luce ma scalderebbe i motori già dalla stagione 24-25 al contempo c'è anche la possibilità che la Corte di Giustizia europea imbocchi una terza via tipo quella del basket concedendo la possibilità come vediamo all'Eurolega e a un'altra competizione concorrente senza nessun tipo di preclusioni a chi vuole partecipare a una competizione a chi all'altra in un simile in un simile contesto in un mondo del pallone in costante evoluzione leggiamo ancora su tutto lo sport quella Premier League che rischia di fagocitare gli altri campionati nazionali la New Entry Arabia Saudita che aspira a divorare tutto è evidente quanto il parere della Corte di Giustizia europea diventi dirimente per disegnare appunto il futuro ma anche per chiarire i rapporti di forza tra l'UEFA e i club che hanno aderito alla Superlega questo parere di Spooner che uno dice ma chi è era arrivato a marzo e è il primo avvocato generale della Corte europea quindi nettamente al di sopra di Rantos e che è intervenuto nel conflitto tra l'Anversa e un giocatore che rimane anonimo che appunto ha attaccato la UEFA sostenendo che ci siano e le federazioni dei singoli paesi dei conflitti di interesse appunto economici che vengono perseguiti da questi enti che invece dovrebbero pensare solo alla materia sportiva quindi un grosso dibattito che vedremo come verrà risolto e da cui dipenderà anche il futuro del calcio europeo digressione che possiamo permetterci in questo momento di questa sosta del campionato in attesa appunto di un derby che nazionali permettendo l'Inter giocherà con la formazione tipo con Turam rinfrancato dal gol e non parliamo di Tula mi raccomando perché rifiutiamo ogni paragone col passato e Lautaro Martinez 5 gol in 3 partite che ha in questo momento la media gol migliore del 2023 rispetto anche a Ozyman e ad altri giocatori come Mbappé piedi per terra dite incrociate sperando che nessuno si faccia male e poi sarà il derby a darci un ulteriore banco di prova con la Champions che poi si avvicina anche quella che sarà fondamentale stasera cerchiamo di fare magari un'altra live vi aspettiamo intorno alle 18 e 30 19 per fare un punto un botta e risposta con tutte le vostre considerazioni come abbiamo fatto ieri iscrivetevi al canale l'obiettivo è sempre quello di arrivare ai 50.000 qualcuno ha detto entro Natale proviamoci entro Natale tagliare questo traguardo così prestigioso non sarà facile ma con il vostro aiuto secondo me si può pensare di fare un po' di vostri messaggi al video di ieri che era un'anticipazione di quello che poi si è realizzato motivo in più per continuare a seguire il canale Stefano Manai dice per fortuna abbiamo il nostro Marco che affievolisce la nostalgia di un Inter 11 giorni senza è un'agonia ma cerchiamo come abbiamo fatto durante l'estate di non farvela sentire tra dieci giorni Paolo Giulio Valdi il derby nessuna paura sono convinto che la squadra affronterà questa prova con coraggio e determinazione senza tralasciare nulla per cercare di uscirne vincenti dom dom invece dice basta fischia quadrado tutti i giocatori devono sentirsi parte dell'Inter e continuare a fare bene parlo di calcio un plauso per al sottoscritto per non parlare di Tula grazie per i complimenti sull'autaro dice ha raggiunto un livello di consapevolezza che definirei totale fascia di capitano bomber trascinatore l'autaro ora che non è più un comprimario si è preso l'Inter sulle spalle si è assunto la responsabilità di essere l'autentico leader uomo squadra e lo si vede dal suo sguardo da toro inferocito dal primo al novantesimo minuto e oltre ha e trasmetto ogni suo compagno quella cattiveria che fa andare a recuperare palloni anche sul 4-0 ripeto oltre all'ossatura al gioco alla compattezza saranno la fame le motivazioni comunque l'umiltà a fare la differenza in questa nuova annata nera azzurra sempre forza Inter Raimondo la cosa che più mi impressiona è che in difesa va ancora inserito Pavar a centrocampo Frattesi ancora solo un potenziale in avanti Turan può solo migliorare e quindi anche tutte queste chiavi possono ulteriormente rinforzare questa squadra Giovanni va controcorrente nel caso dovesse succedere di perdere il derby in 58 anni ne ho viste di sconfitte non credo di doversi strappare i capelli ma Giovanni aspettiamo cerchiamo un po' di non pensare sempre al peggio se Lautaro fa 50 gol in tutte le competizioni facciamo il tripleto e si porterà a casa il pallone d'oro da un estremo all'altro Gian Piero Mario grazie per la live la convalescenza si riempie di sorrisi un abbraccio grazie per tutto a te anche per averci ricordato il grande cipe già cinto nella live di ieri sera non sono scaramantica ci dice un'amica che però non sappiamo come si chiama user posso anche accettare che sia la favorita per lo scudetto non accetto che si dica che sia obbligata a vincere ma il giochetto lo conosciamo molto bene adesso la pressione è cercare di mettere più pressione sull'Inter dicendo che la favorita è incontrastata Marino non ho condiviso i fischi a quadrado tifare l'Inter e i nostri colori chiunque indossi la nostra maglia Walter Drum grande Marco analisi lucida serena e sempre con il giusto tono cosa rara di questi tempi alcuni youtuber o pseudo giornalisti nera azzurri forse senza rendersi conto stanno purtroppo facendo danni all'Inter con i loro canali meno male che ci sei tu grazie Walter hai colto il punto Diego secondo me la chiave la cattiveria che si era persa dopo la vittoria dello Scudetto che poi è stato il motivo per cui abbiamo perso il campionato successivo regalandolo al Milan la mentalità la cattiveria la voglia di vincere succederà la stessa cosa anche a Napoli si chiede Diego Sette Nanetti sono contento per il rinnovo di Inzaghi se l'è meritato visto i risultati del gioco espresso nell'ultima parte della stagione scorsa in questo inizio del campionato si è creato un gruppo unito dove tutto l'ambiente lotta e si diverte pensando a un obiettivo comune vincere giocando bene facendo divertire i tifosi forse proprio anche le eccessioni di Brozovic e di Lukaku ha responsabilizzato un po' tutti spero solo che Sanchez non crei problemi qualora il mister non lo facesse giocare abbastanza Massimo Cattaneo paragonare Turam ma Pancev è proprio l'esempio migliore di come ci sia sempre qualcuno che non fa nessuna fatica a inventare critiche assurde per aumentare la pressione sull'Inter poi cosa c'entra poi nella giornata in cui si sblocca con un bellissimo gol fa un assist e si prende un rigore che paragone è ma Giuseppe dopo il calcio mercato estivo le prime tre fantastiche giornate questa lunga pausa non ci voleva in vista del derby comunque ci sei tu che ci tieni compagnia con i tuoi preziosi video bisogna che questa stagione la squadra la società dei tifosi collaborino insieme per cercare di vincere questa seconda stella poi è chiaro no? è l'obiettivo e anche per quello si è fatto un rinnovo con solo un anno più un'opzione bisogna adesso cercare di vincere il bersaglio più importante dichiarato da tutti nessuno si è nascosto per qualcuno non si doveva dirlo ma l'Inter cosa deve fare col suo blasone il suo prestigio da vice campione d'Europa deve dire lottiamo per un posto in Champions ma non sarà mai Inzaghi grande carriera che sa tenere bene lo spogliatoio con i suoi valori ci fa sentire orgogliosi di tifare Inter grazie Marco sei bravo in quello che fai anche tu ci trasmetti dei buoni lavori massimo dalla Svezia addirittura la cosa poi più bella è sentirvi da tutto il mondo che ci seguite ogni giorno e spero di rendervi un servizio importante piedi per terra Anthony ma non posso negare che vederli giocare è diventato uno spettacolo anche la qualità del gioco è migliorata ringrazio Tony Paola tutti i nostri abbonati ringraziamo Libri Antichi Online per il super grazie e andiamo a fare un minimo di rassegna stampa strano che sulla gazzetta dello sport in copertina non ci sia neanche una riga sul rinnovo di Inzaghi derby a Parigi nel ritiro della Francia con Giroud e Turam c'è aria di grande attesa per il Milan tranquilli vince l'Inter per le parole di Marcos Turam la copertina poi dedicata a una Juve che cerca di risalire e di tornare a vincere la nazionale di Spalletti e poi carica Turam vinciamo noi emozione Giroud una grande attesa è già derby di Francia De Vrij e i suoi fratelli nessuno in Europa sa difendere meglio il muro dell'Inter zero gol subiti i nerazzurri non hanno ancora subito gol l'olandese top con Darmiane e Bastoni in attesa di Acerbi e Pavar che scalpita il CT svizzero Lancia Sommer meritava questa fiducia stesso stipendio fino al 2025 Simone riparte dal rinnovo di cui si parla anche e già in copertina sul Corriere dello Sport come giusto che sia con quel bel editoriale che vi abbiamo letto Inzaghi per la stella però si dice anche in copertina prenota lo scudetto numero 20 missione scudetto il piano di Inzaghi l'Inter ufficializza 5 milioni e mezzo dal precipizio al rinnovo che ribaltò ne parliamo stasera in live mi raccomando buona giornata a tutti che ribaltò